I lavori della discordia, code, polemiche e tensioni. Gli interventi dell'Enel lungo il tratto della strada costiera compreso tra San Cusumano e Pizzolungo paralizzano la provinciale per San Vitolo Capo, proprio nel periodo in cui è presa d'assalto dalle auto dirette verso le località balneari. In tanti sono rimasti imbottigliati, esprimendo il proprio malumore soprattutto nei social, che hanno fatto da cassa di risonanza al malcontento degli automobilisti costretti a file steonanti per raggiungere a destinazione. E dopo le proteste degli utenti della strada e la presa di posizione del sindaco Daniela Toscano, la società si è ravveduta e a partire da oggi adotterà differenti modalità di esecuzione delle opere per minimizzare i disagi alla circolazione, concentrando gli interventi nelle primissime ore del mattino. Gli operai lavoreranno dalle 5 alle 11.30, saranno inoltre utilizzati i movieri al posto dei semafori per gestire meglio il transito dei mezzi. Sarà inoltre ristretta l'area del cantiere per garantire il transito a bassa velocità contemporaneamente di due auto in entrambi i sensi di marcia. Insomma, l'incubo per gli automobilisti rimasti bloccati sotto al sole che picchia forte sembra destinato a finire.